Pane, salutiamo Manuel e salutiamo Gina Decazzan che avremo sul canale, presto sul canale Gina Decazzan e un saluto a tutte le varie malgascione che si collegano e che si collegheranno e parliamo, parliamo quindi di questa, diciamo, cara malgasciona smetti di pensare il catramista che ti ha lasciato, che ti ha abbandonato smetti di pensare il catramista perché la malgascione e il catramista è l'accoppiata vincente fondamentalmente quindi è importante smettere di pensare a queste situazioni allora, questo ovviamente, questo titolo prende dallo spunto, diciamo smetti di pensare il catramista, cara malgascione smetti di rimuginare a tutte le situazioni in cui voi malgascione rimuginate, in cui voi malgascione state lì ad avete un pensiero eccessivo, cioè pensate troppo a una persona salutiamola malgasciona, Lucia e quindi questo è un punto molto importante, un punto fondamentale e tra l'altro nel nostro viaggio quotidiano, diciamo, nella vita spesso ci troviamo ad avere dei pensieri ruminanti il pensiero dominante, diciamo salutiamo Rosi, Roxy Rose, salutiamo Giuse che cos'è il pensiero ruminante? il pensiero ruminante è un pensiero, diciamo, in cui dedichiamo un tempo eccessivo, un'energia mentale a pensare, ad esempio, a riflettere, a rimuginare e mi ha lasciato, e ma perché mi ha lasciato, e ma cosa starà facendo adesso? salutiamo Betty Cottage, e ma come mai qui, e ma come mai là? insomma, e ma adesso dove starà? ma starà con quella, ma starà con quell'altra ma voleva fare questo, ma voleva fare quell'altro e queste sono tutte cose che dobbiamo smettere di fare perché altrimenti rimaniamo bloccati, diciamo così rimaniamo intrappolati in una situazione che non ci porta a nessun beneficio salutiamo Sara e nel frattempo ricordo a tutti che se volete potete mettere un like non costa niente far girare il video su YouTube e se volete fare una donazione al canale potete farla cliccando sul dollarino se volete abbonarvi al canale per usufruire dei vantaggi degli abbonamenti cliccate sul tastino abbonati quindi è importante sottolineare che a tutti noi sarà capitato magari di pensare a una persona soprattutto quando una persona ci ha lasciato magari ci mettiamo lì a pensare cosa farà, cosa non farà però il problema è che non deve diventare diciamo un'abitudine, non deve diventare una forma pensiero perché altrimenti restiamo pesantemente vinculati da questo la nostra mente non deve rimanere bloccata eccessivamente su una situazione dobbiamo trovare nuove sfide, nuove possibilità perché restare bloccati ci porta di fatto stress ci porta di fatto dei meccanismi stressanti dei meccanismi che alla fine sono meccanismi negativi meccanismi nefasti meccanismi che non ci danno benessere non ci possono dare benessere noi non possiamo avere benessere nell'essere stressati da una situazione una persona che pensa troppo a un'altra persona svilupperà diciamo una connessione sempre più profonda perché c'è un processo che si chiama processo di infertizzazione che cos'è? il processo di infertizzazione è il processo attraverso il quale noi di fatto ci innamoriamo di quella persona ci coinvolgiamo con quella persona purtroppo ci infertizziamo proprio ci infertizziamo proprio più pensiamo a quella persona più ci infertizziamo ci infertizziamo vuol dire che entriamo in contatto con questa persona che entriamo diciamo ci innamoriamo perché dedichiamo energie e ovviamente noi dobbiamo invece trovare motivazioni a qualcos'altro la motivazione a diciamo a conquistare la nostra libertà fondamentalmente non dobbiamo avere degli scrupoli di coscienza di scoscienza fondamentalmente salutiamo Green Apple perché dal contrasto diciamo tra la libertà di agire e i blocchi che noi abbiamo si genera e i vincoli che noi abbiamo si genera la motivazione si genera la motivazione a conquistare qualcosa di nuovo quindi il contrasto tra la libertà diciamo genera la motivazione ma la libertà deve vincere perché la libertà è proporzionale alla motivazione se la libertà vince la motivazione è forte se la libertà perde e vincono i blocchi saremo deboli, demotivati, perdenti e questo purtroppo è un punto fondamentale è un punto molto importante che dobbiamo tenere sempre presente un punto fondamentale che dobbiamo cercare di tenere presente dobbiamo liberarci diciamo da questi blocchi che in qualche modo ci tengono vinculati fondamentalmente in situazioni negative, nefaste in situazioni diciamo che non portano nessun beneficio perché non ci può essere nessun beneficio a essere bloccati diciamo in condizioni estremamente negative di pensieri, di pensieri fissi quindi dobbiamo far vincere quella che chiamiamo libertà la libertà è proprio la cosa più importante proprio la cosa fondamentale che ci permette di fare fondamentalmente un salto quantico non un salto quantico e liberarci una volta per tutte da questi pensieri quindi dobbiamo imparare a essere fondamentalmente liberi di essere fondamentalmente liberi e di uscire fuori da questi blocchi negativi una persona che pensa troppo passerà le ore a preoccuparsi diciamo di tutto quello che farà un'altra persona quindi non vivrà più una vita sua di fatto ma vivrà la vita di qualcun altro sarei sempre proiettato a pensare, a fare e quindi questo è un punto fondamentale il pensiero eccessivo è come correre su avete presente i criceti voi siete come i criceti il criceto a me da bambino regalavano io volevo sempre il cane ma i miei non mi compravano il cane mi compravano vabbè all'inizio il pesce rosso poi c'è stata un'evoluzione il criceto il criceto al posto del cane comunque il criceto quindi ho sperimentato come vivono i criceti che stanno in una gabbietta piccola perché ovviamente devi metterli in una gabbietta piccola però diciamo li mettevano in una gabbietta piccola il criceto sta nella gabbietta piccola ma siccome un animale è un topo fondamentalmente è un ratto senza coda poi è carino però però ad esempio i criceti non puoi metterli due assieme perché si ammazzano fondamentalmente e il criceto sta sulla ruota e corre gira sulla ruota quindi praticamente se tu continui a pensare sei come il criceto rimuginare vuol dire essere come i criceti che corrono corrono ma restano sempre fermi è come se avessi un tapirulant mentale non consumi molta energia il criceto si dannava su quella ruota ma non si spostava di un millimetro perché girava 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 e quindi spesso a rimuginare si è come è come essere sulla ruota del criceto corri 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 ma non combini niente quindi noi dobbiamo sviluppare la nostra mente la mente è uno strumento potente è uno strumento che ci può dare diciamo delle ottime chance ci può dare delle ottime possibilità ma dobbiamo utilizzarlo nel modo giusto quindi dobbiamo iniziare a comprendere che questi pensieri eccessivi questi pensieri eccessivamente a una persona influenza ti influenza negativamente su qualunque in qualunque situazione della vita ad esempio sei influenzato cioè se tu pensi sempre a una persona sprechi energie e noi abbiamo una fetta di torta una torta cioè di energia non è che abbiamo energie infinite se tutte le energie le dedichi a pensare a un coglione significa che sarai coglione pure tu fondamentalmente questo devi tenere presente se tu pensi soltanto ai coglioni è perché tu sei un coglione c'è questo che ti piaccia o no è un dato di fatto no? più pensi ai coglioni più sarai coglione non c'è altra possibilità non c'è altra chance invece dovrai imparare a dovrai imparare a non essere coglione e questo allora ti porterà dei benefici cioè dedicare le tue attenzioni a qualcos'altro questo è un altro punto che secondo me è un punto molto importante cioè noi dobbiamo usare le nostre energie nel modo giusto cioè senza sprecarle senza buttarle fondamentalmente non possiamo buttare le nostre energie non possiamo dobbiamo sviluppare un percorso di crescita personale orientare il nostro pensiero verso nuovi orizzonti verso nuove verso nuove possibilità no? quindi dobbiamo orientare i nostri pensieri e puntarli diciamo su situazioni che ci possono dare dei benefici su situazioni che ci possono rendere felice cioè avere essere avere una mente felice fondamentalmente no? perché altrimenti avremo una mente sempre sempre proiettata su situazioni che poi di fatto sono situazioni negative un pensiero eccessivo è come un diciamo come dire una zavorra che impedisce al vento gagliardo di spingerci verso l'alto perché noi avremo le possibilità di essere sospinti da un vento gagliardo essere su una mongolfiera sospinta da un vento gagliardo che ci permette di andare oltre e quindi dobbiamo renderci conto di questo credo che questo sia un primo punto fondamentale e quindi cosa dobbiamo fare? dobbiamo identificare quali sono come direbbe la nostra green apple i triggers i triggers direbbe la nostra green apple quali sono gli interruttori i triggers del pensiero ruminante perché un trigger cos'è? è un evento è una situazione che ti scatena un pensiero ad esempio una persona che ti lascia e che giustamente ti lascia e che magari giustamente molla a te se ne va con una rumena perché magari per dire la rumena è molto più intelligente di te è molto più bella di te è molto più sensuale di te è molto più affascinante di te quindi lui giustamente se ne va da questa rumena e a te ti lascia no? e allora se succede questo questo è un evento scatenante diciamo ad esempio l'abbandono potrebbe essere un evento scatenante che scatena un trigger diciamo di pensiero ossessivo e quindi da quel momento lì in poi tu non farei altro quindi è l'abbandono che ti fa scattare il trigger del pensiero eccessivo e quindi tu inizierai da quel momento lì che è scattato questo abbandono inizierai a pensare a questo a cosa farà con quell'altra a come mai e diciamo e questo perché ovviamente potrebbe essere anche non un collegamento diretto ma magari l'abbandono ti genera stress e lo stress ti genera diciamo questo è ancora più facile che avvenga quindi ogni evento che ci genera stress spesso genera poi un pensiero eccessivo no? quando siamo sotto pressione ad esempio sia magari nel lavoro nelle relazioni personali nelle sfide della vita quotidiana siamo diciamo in qualche modo salutiamo Zulemita siamo in qualche modo coinvolti da questa cosa no? e quindi tu inizia a pensare no? quando una persona ti lascia quando una persona oppure magari ma non è neanche che ti lasci perché ci sono persone che manco vengono lasciate no? ma semplicemente quello non ti piglia più in considerazione prima ti rispondeva al telefono poi non ti rispondeva più al telefono prima ti dava delle attenzioni poi non ti dà più attenzioni e tu ti senti diciamo immersa in una situazione nefasta ti senti immersa in una situazione negativa per cui ti genera stress e quindi lo stress è spesso correlato a questo pensiero eccessivo e tu inizierai a pensare ah ma perché mi ha lasciato ah ma perché prima mi scriveva prima mi scriveva tanto adesso non mi scrive più prima mi cercava mi diceva che ero un puttanone mi diceva che ero uno che ero una zoccolona e ero contenta che mi diceva questo e invece adesso diciamo non non sono più contenta adesso qua lo penso ma come mai quindi questi sono i trigger no? i trigger l'incertezza ad esempio il dubbio ecco un'altra cosa interessante il dubbio è un altro trigger e quindi se voi volete innescare dei trigger del pensiero ossessivo perché questo potete anche innescarli voi no? questo è l'effetto Zygernik l'effetto Zygernik è un trigger ma la pronuncia non so se è giusta green trigger trigger spero che la pronuncia sia giusta vuol dire trigger vuol dire interruttore e quindi l'incertezza è spesso un altro trigger che aumenta il pensiero ossessivo noi viviamo in un mondo in cui quando abbiamo un dubbio abbiamo un'incertezza iniziamo a pensare spesso a quella cosa e quindi nella seduzione è molto importante nella seduzione ad esempio se vogliamo che una persona ci pensi ossessivamente o che pensi spesso a noi dobbiamo imparare a generargli dei dubbi perché però noi dobbiamo imparare a non lasciarci coinvolgere da questi trigger e guardare oltre fondamentalmente perché le incertezze generano queste cose e quando siamo di fronte a un'incertezza dobbiamo imparare a lasciarla andare a fottercene poi il futuro sarà quel che sarà ma non possiamo stare lì e rimuginare a pensare però se non conosciamo se non sappiamo che un'incertezza può generare un trigger di pensiero eccessivo non possiamo non possiamo rendercene conto quindi questo salutiamo Carola questo è un altro è un altro punto no? quindi questo è un altro trigger di pensiero eccessivo e poi ad esempio ad esempio dover prendere una decisione importante anche qua dover prendere una decisione importante può sviluppare un pensiero eccessivo chi decide ad esempio di sposarsi potrebbe iniziare a pensare ma faccio bene a sposarmi ma non faccio bene a sposarmi ma mi piacerebbe sposarmi non mi piacerebbe sposarmi e quindi inizi subito a sviluppare un pensiero di nuovo un pensiero un pensiero eccessivo no? quindi sono tutte cose che ci portano diciamo in situazioni estremamente negative in situazioni estremamente nefaste per cui invece è molto importante non avere questi pensieri se dobbiamo prendere una decisione dobbiamo elaborarla prenderla e poi andare avanti le decisioni importanti spesso o cambiamenti di vita possono innescare un pensiero eccessivo e invece dobbiamo andare avanti anche volte eventi traumatici no? ad esempio inizio a pensare ossessivamente quella cosa purtroppo questo capita ma per fortuna nel momento in cui ce ne rendiamo conto possiamo eliminare no? dobbiamo gestire efficacemente questi trigger del pensiero eccessivo e quindi diciamo imparare a gestire lo stress imparare a gestire l'incertezza prendere decisioni e poi andare avanti elaborare no? diciamo queste cose d'altra parte noi dobbiamo iniziare a diciamo a valutarci nel modo migliore quindi dobbiamo tenere presente che dobbiamo imparare a darci una buona ad avere una buona visione una nuova una buona visione di noi stessi no? perché l'ansia è diciamo è la risposta emotiva infatti di fatto che ci permetterebbe ad affrontare potenziali pericoli potenziali minacce quindi questo è un punto fondamentale può aiutarci a concentrarci a superare diciamo alcune situazioni quindi sono tutte cose che dobbiamo imparare e imparare a sviluppare insomma non dobbiamo cadere nel nel dramma diciamo del pensiero eccessivo del pensiero rimuginante perché perché questo ci genererà l'incapacità di ottenere dei risultati quindi il riconoscere il trigger che ci fa ecco invece voi di riconoscerlo invece spesso noi continuiamo ad alimentarlo no? perché poi cosa facciamo? troviamo un'altra persona che magari ha avuto un evento simile e cominciamo a parlare con quella persona lì no? e quindi dite ma lui cosa fa? ma tu come stai? ma tu come ti senti che ti ha lasciato? ma ti senti bene? ah no ma io adesso non lo prendo più in considerazione uh no ma io qua io là io su io giù e continuate invece a rimuginare a parlare a chiedervi salutiamo anche Domitilla a chiedervi sempre le stesse cose continuamente e questo chiedersi chiedersi sempre le stesse cose ti porterà diciamo fondamentalmente a fare una vita di merda perché poi alla fine il risultato di questo è una vita di merda che tu farai finalizzata sempre a pensare queste cose e invece di continuare a fare una vita di merda dovresti imparare a vivere meglio fondamentalmente ma spesso le persone non lo fanno no? ci sono diverse modalità no? la meditazione ad esempio meditare è una tecnica che può essere utile diciamo è una tecnica che può essere utile per liberarsi no? da queste ansie queste tensioni ma anche fare qualcosa di più utile concentrare i propri pensieri su qualcos'altro anche forse il proprio respiro ogni volta che ti viene di pensare a quella persona fai il mindfulness chiudi gli occhi respira e porta la tua attenzione sul tuo respiro meglio pensare al respiro che pensare a un coglione evita di parlare di questa persona no? se non puoi perché la parola continua ad alimentare noi voi continuate sempre ad alimentarvi è ovvio che più continuate ad alimentarvi più più ve le prenderete in quel posto e poi andate a lucubrare a dire magari a girarci in giro ma farà questo ma una persona fa questo una persona fa quell'altro e continuerete diciamo a a rovinarvi fondamentalmente a decidere a perdere tempo in queste cose d'altra parte poi questo pensiero eccessivo vi brucia del tempo già spesso siete anziani non avrete più tanto tempo da vivere oramai diciamo che siete arrivati quasi al capolinea ma se vi alimentate di pensiero eccessivo questo capolinea si avvicinerà sempre di più no? perché continuerete a perdere tempo inutile a pensare una persona che oramai starà già facendo un'altra vita sarà felice giustamente con un'altra donna che avrà trovato sicuramente più bella più interessante più affascinante di voi una donna sicuramente che lui avrà trovato più bella più interessante più affascinante di voi e quindi giustamente se ne è andato con quest'altra e il fatto che voi però continuate a perdere tempo a pensare quello è tempo perso e siccome il tempo è il bene più prezioso che abbiamo voi lo sprecate diciamo buttandolo via dedicandolo a una persona che invece da parte sua non gliene frega niente di voi e siccome cioè se uno questa cosa qua la fa a 20 anni e vabbè diciamo che va male anche ma perlomeno ha tanto tempo davanti insomma ma se lo fai a 40 50 60 come dire quando come non dico che il tuo tempo sta per scadere ma comunque ormai hai già scollinato diciamo no hai già superato la media della metà della vita e quindi a quel punto lì ogni secondo è prezioso quindi anziché sprecarlo in discorsi di questo genere in discorsi inutili dovresti dovresti diciamo fare delle cose fare delle cose diverse perché essendo che magari avete superato i 40 i 50 o chissà quanti anni avete dovete dedicarvi ad altro ma questo vale indipendentemente dall'età no salutiamo anche Crezzi Crezzi Robby e invece non ci riuscite quindi è inutile più forte di voi però questo vi porterà diciamo fondamentalmente a non trovare neanche altre persone perché tra l'altro altre persone giustamente non vi vorranno perché verrete percepite dal mondo esterno come delle rompicoglioni come delle ossessionate no e quindi è ovvio che poi nessun altro vivorà fondamentalmente non gliene fregherà a nessun altro ecco quindi ci sono diverse strategie ad esempio implementate una lista delle priorità invece ogni giorno datevi delle cose da fare e diciamo datevi una regola che quando vi viene il pensiero di quella situazione fate qualcos'altro agite datevi degli obiettivi trasformate trasformate questi pensieri negativi in obiettivi che vi consentiranno di raggiungere dei risultati in obiettivi che vi consentiranno di essere finalmente più felici se imparerete a farlo ne avrete dei benefici se non imparerete cazzi vostri come dire ve lo prenderete in quel posto ma saranno solo fatti i vostri bene questo è quello che volevo dire nel frattempo metti un like iscriviti al canale e fare una donazione al canale anche piccola può dare un contributo e e un salutatore